Sulla questione dell'annullamento delle libere in autotutela da parte dell'amministrazione comunale i consiglieri di minoranza sono intervenuti criticando questa decisione e hanno chiesto anche le dimissioni del sindaco di Sant'Omero. Che cosa risponde? Si tratta, non comprendiamo le ragioni che hanno spinto l'amministrazione comunale a fare queste dichiarazioni. Noi come amministrazione comunale possiamo solamente affermare che è stato preso un atto legittimo, perfettamente legale, che consiste in un annullamento in autotutela della delibera di approvazione di una variante che, lo ricordo a tutti i cittadini, è un procedimento complesso composto da più fasi che si dirama nel tempo e che l'amministrazione successivamente alla approvazione definitiva si è reso conto a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino che c'erano delle problematiche. Queste problematiche di concerto con gli uffici e anche con il parere della provincia di Teramo abbiamo ritenuto siano insanabili e pertanto è stato necessario ritornare in consiglio comunale per permettere all'ufficio tecnico di rettificare il procedimento e di procedere a seguito del parere della provincia di Teramo ad una nuova approvazione definitiva. In termini pratici che cosa cambia? Per il momento non cambia assolutamente nulla, c'è semplicemente un ritorno indietro per quanto riguarda un atto tecnico, non si tratta di nessun ripensamento a riguardo politico o amministrativo da parte dell'amministrazione comunale ma si tratta semplicemente di attendere un parere obbligatorio che era quello della provincia di Teramo che si esprime su alcuni importanti procedimenti e alcuni pareri importanti come quella di tutela ambientale e poi l'amministrazione in seguito alle osservazioni della provincia agirà di conseguenza e permetterà di tutelare in maniera compiuta gli interessi prima di tutto dei cittadini, poi quelli dell'enti e infine anche della ditta procedente. Sulle dimissioni ribadisco che i cittadini nove mesi fa hanno deciso a chi affidare l'amministrazione del comune di Sant'Omero ed è stata una scelta democratica e ricordo a tutti che continueremo a svolgere il nostro mandato con il solito impegno e con la massima umiltà.